chiedi scena siamo pronti si è barbara no un momento ancora dato il via chiedi scena siamo pronti occhio simone è 5 4 3 2 1 vai sì barbara sono quasi pronto ok mara ci sono cari amici buongiorno a tutti diamo inizio questa mattina le prove tecniche di trasmissione del tg knosfat news ne seguiranno altre nei prossimi giorni mi raccomando restate tutti in contatto ok buona la prima